Sono 40 anni e non sentirli. L'Ausilium Sondrio, come ogni estate, è impegnata con l'Ausilium Camp. Tanti bambini, non solo amanti della pallavolo, che hanno raccolto l'invito del sudalizzo sondrese. Ma questo per la società è un anno particolare, visto appunto che si festeggiano 40 anni di attività. L'impegno nel mondo del volontariato non è però passato inosservato, tanto che anche l'Inter, la gloriosa squadra di calcio che quest'anno è arrivata a un passo dallo scudetto, ha fatto un regalo speciale agli amici sondresi. Tutti vogliono essere vicino a noi, testimoniare la loro presenza per questi nostri 40 anni. L'FC internazionale, per i nostri 40 anni, ci ha donato questa maglietta con le firme dei giocatori e sono certo che tu, che sarai il primo a dare questa grande notizia, apprezzerai tantissimo questo momento e naturalmente forza Inter Paolo e forza Ausilium. Camp estivo che, fuori programma parte, prosegue nel modo migliore. Una proposta educativa, oltre che sportiva, un modo sano di stare insieme durante la pausa della scuola. Non solamente sport, ma conoscenza del territorio valtellinese, delle proprie eccellenze, percorsi didattici, cultura. Quest'anno andiamo al Cast Masegra, al museo, li porteremo all'Ecofonisica, all'Aprica. Davvero tante, tante cose. E devo dire, con orgoglio, visto che siamo stati premiati, quest'anno siamo riusciti a fare un qualcosina in più, grazie anche e soprattutto a Pro Valtellina, che ha fatto un bando proprio per l'attività estiva e l'abbiamo vinto. E senza il loro sostegno non saremmo riusciti ad allargare così la nostra proposta. E anche oggi, grazie all'ospitalità del Sondro Rugby e delle sue strutture, l'attività in campo è proseguita, come testimoniano gli educatori che seguono i ragazzi. Come ogni anno, siamo abituati ormai a svestire i panni agonistici della pallavolo per passare ai multi-sport che proponiamo durante gli Auxilium Camp. È una bellissima occasione per i bambini e le bambine per ritornare a socializzare. Era importante prima della pandemia, adesso è necessario e bellissimo rivedere le relazioni che tornano a essere normali. Arrivano addirittura prima dell'ora dell'inizio, sono sempre felici, fanno un sacco di attività, si divertono, fanno nuove amicizie. È veramente molto bello vederli sorridere e vederli giocare insieme. Vi dovete dire come sta andando questo camp, se vi piace. Molto bello, sì, ci divertiamo tanto e facciamo dei bellissimi giochi. Com'è? È molto divertente, gli allenatori sono molto simpatici e poi ho imparato a fare tantissimi giochi che prima non conoscevo. Ma non vedo maschietti, non giocano a pallavolo i maschietti? No, possono giocare, ma in questo momento ce ne sono di meno che non se ne sono iscritti. Come sta andando? Bene, sì, abbastanza bene. Siete contenti? Contente del giocare? Sì, molto. E sono anche giochi tanto divertenti. Perfetto, grazie ragazze. Salutate, ciao!